Ehi la ciurma! Rieccoci qui con un nuovo episodio di MIND TESTITA con le porte sempre bugate E' un colore sempre diverso, ma sono sempre bugate Ah, quando si apre cambia anche colore? No, è di lato che... boh Lol, piccoli aggiornamenti, qua non mi faceva più gomma e allora ho provato a ripiantare l'albero Non so se crescerà mai, io mi auguro di sì Questa zona è chanclodata, quindi speriamo di sì Andiamo a vedere tra l'altro come sta funzionando la nostra farm automatica Speriamo bene, 99,62, uh, abbiamo già più di due stack Grandissima cosa E facendovi vedere l'inventario con un sacco di roba che mi sono craftato a FK No FK, off camera La scorsa settimana Vi vado a parlare del progetto che ho in mente per oggi Il progetto che ho in mente per oggi è due punti a capo Aperte le virgolette Una casetta per la processazione automatica dei minerali Questo nasce dal fatto che quando salgo dalle miniere Quando vado in miniera a scavare eccetera eccetera A prendere tutti i minerali, salgo su, torno su e qua sono da grindare Poi sono da cuocere, poi sono da smistare nelle varie ceste E ci va un sacco di tempo Poi si scaricano le batterie, devo andare a dormire Poi devo cuocere delle altre cose, devo riparare i piccone E gli affari là E quindi tipo devi stare a FK 30 Ma neanche a FK perché poi devi mettere la roba dopo Poi devi mettere la roba dopo Poi devi mettere la roba dopo Poi li devi mettere insieme in stack per fare dei cubi Perché altrimenti non ci sta tutto nella chest E un sacco di casini Allora mi sono ricordato di una cosa No, inizialmente ho detto Facciamo una stanza con dei geothermal generator Con un paio di grinder e un paio di fornaci In modo che grindano i minerali che gli mandi Li cuociano C'è un autocrafter alla fine che fa il blocco direttamente dai cubi E mette nella cesta direttamente il prodotto lavorato Questo sì, grande cosa Però il problema era lo spazio Ho iniziato a scavare e a vedere qua sotto come far passare i tubi Solo che un po' scioccamente Questo pavimento O soffitto che dire si voglia È spesso due Quindi o facevo vedere i tubi da sotto O li facevo vedere da sopra Il che non era assolutamente bello Allora ho detto Ehi, ma facciamola passare da qua fuori Sì Però rimane comunque un pavimento alto 2 Perché qua sotto c'è l'acqua Se non vi ricordate male E di conseguenza essendoci acqua Casini Casini Però a un certo punto quando ormai ero qui sul mio lettino a piangere in silenzio Ogni tanto interrotto da caldi singhiozzi Mi è venuto in mente Grande idea Così No, ok Quello è una torcia, non è una lampadina però Idea Torcia Lampadina sulla testa Torcia sulla testa No, eh No Eh, vabbè Mi è venuto in mente di questi bellissimi teleporting pneumatic tube segment Che costano abbastanza, vi dirò Perché Costano abbastanza Come potete vedere Come potete vedere Questo ne da uno Uno Questo ne da due ma E richiede Un blocco di mese comunque Sì, io l'ho fatto così Cioè ho sprecato un Coso di mese Piuttosto che non fare tutto sto Pfff Casino Anche perché facevamo un fracco di copero Un fracco di ferro Qua c'è Pfff Tutto sto casino da fare Quindi ho fatto quello E il funzionamento di questi è molto semplice Si collega uno di questi Per esempio al chest No, che qua in questo caso è qua No, qua è giusta È giusta quella È questa quella dei minerali Perfetto, sì Si collega qua sotto uno E gli si dà un Un canale, diciamo, da seguire Che in questo caso sarà Minerali Chiamiamolo così No, send and receive Credo che ci fosse anche il receive only Invece no È settato su minerali Perfetto A questo punto Se da un'altra parte ci sarà Un item injector Che manderà al canale minerali Lui riceverà i minerali E li metterà automaticamente qui in ordine Tra l'altro in ordine Perché c'è un autosort is on Quindi Oppi E per celebrare questo Ho deciso di fare Una stanzetta Da un'altra parte Del nostro mondo In modo da farli processare In quella zona là E poi dopo mandarli Qui a casa Ah, però adesso mi viene il dubbio Che magari quella zona Che ho pensato Non è chancloddata Ehm Lo vedremo Lo vedremo Dovrei provare A mettere un Mese C'era una cosa che spammava Dei messaggi Ma non mi ricordo più come si chiama Node detector Player detector Command block Però come si craft Però come si craft Ah, non si può Dovrei givvarmelo Per vedere se qua Ancora chancloddata Ma facciamo che givvarcelo Allora, questo cosa si chiama Aspettate che scrivo Perché qua non posso fare Control C, Control V Si chiama Mese Cons Command Block Due punti Command Block Underscore Off Quindi se noi andiamo E facciamo F10 Give me Mese Cons Command Block Command Block Off Ok, dovrebbe averne aggiunto Uno nel mio inventario E infatti così è Allora, se noi adesso mettiamo Questo con una Blinky Plant Che tra l'altro abbiamo E Lo mettiamo Facciamolo un po' lontano Tipo Qua Così dovrebbe andare bene E gli dico Tell Mazzetess Sono configurato Sì, ok Dovrebbe andare adesso Devo però rimettere Ah, ops Devo togliere la chiocciola Questo me lo dimentico Sempre Vediamo Ah, no Perché qua non sono Mazzetess Sono single player Sono Single player Single player Sì, ok Perfetto Adesso andiamo Proviamo ad andare Tipo Cittad Tipico Cittadina Adesso vediamo Se continua Se continua a dirci Che è configurato Dovrebbe dircelo Ogni tot No, non ce lo sta dicendo Non ce lo sta dicendo Quindi questo potrebbe voler dire Che Si è Scaricato Esatto Si è scaricato il chunk Perché adesso ricomincia Come potete vedere Ogni tot Dovrebbe dirci Sono configurato No, non ce lo dice neanche più Perché è scaricato anche da qua È troppo lontano Anche qua Ehm Aumentiamo Ottanta Proviamo Ottanta Tre Novantasette Però ne tiene Non ne riesce a tenere di più E Non sta dicendo Un case di niente Qua lo prende Sì Qua lo prende Però più lontano No Credo che dovrei andare A modificare i config Per aumentare Il numero di Chunk caricati Oppure mettere Un chunk loader Da quella parte là Allora Noi facciamo 50 qua No Facciamo così In modo che lo prenda 53 92 Perfetto Però Non Non riesce a tenere Abbastanza Dovremmo avere ancora Un world anchor Inutilizzato Da queste parti Perché Sì Esatto Perché prima ne avevamo messi di più E On L'autosort Sì Allora Ci basterà Metterne uno di là E vedere se per caso Riesce a reggere Abbastanza Chunk Diciamo In base alla configurazione Che abbiamo impostato Mettiamo un chunk loader Di qua Tipo qua Nascosto Va bene Gli mettiamo Radius Anche lui Di 50 E vediamo se funzica 152 Però qua Dovrebbe comunque Mantenerlo caricato Cioè questa zona qua Dovrebbe comunque Mantenerla tutta caricata Quindi Nessun problema Per essere sicuri Facciamo ancora un Caro tipico Cittadina Cittadina E lui dovrebbe Continuare a dirci Che è caricato Non ci sta dicendo niente Non ci sta dicendo niente Perché non ci sta dicendo niente Eppure dovrebbe essere carico Questo è funzicante Forse perché gli ho dato Un numero troppo grande Forse Adesso dice che è configurato Vediamo se ci spostiamo in qua No 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 Non sta funzionando La world anchor Dobbiamo Settarla Di nuovo Ma forse l'ho disabilitata Non lo so Comunque questo è per spiegarvi Comunque c'è un modo Molto comodo Molto utile Per Capire Se gli mettessi 12 Come sotto Perché 5 su 8 Perché 5 su 8 Perché non li prendi tutti Se ti metto 20 Quanti su 64 21 Ma perché E perché non tutti Ehm Buon ragazzi Vado un attimo Nelle config E Torno Ragazzi Funziona Funziona Siamo qua sotto Come potete vedere Sono configurato Sono configurato Continuo a dircelo Era una questione di config Ho aumentato il numero Di force loaded blocks Ehm Nell'impostazione Max force loaded blocks Ehm Appunto Adesso non mi ha dato Nessun problema Di quei numerini la Quindi GG Ehm Come potete Immaginare Dagli oggetti Che ho preso Volevo fare Una struttura Fatta di Minerali Adesso magari Togliamo Quella farela Che continua A dirci Sono configurato Sono configurato Sono configurato Sono configurato Sono configurato Basta L'abbiamo capito Muori Tu togliti Allora Lui prende ancora Quindi perfetto Il command block Per ora Lo togliamo Dai piedi Però possiamo Tenerlo Perché Potrebbe Servire Allora io Volevo fare Un edificio Qua Più o meno Intorno Dove c'è Questo Blocco di stone Che è Un More blocks Circle Stone Breaks Come potete vedere Il nostro carissimo F5 Grazie F5 Per la collaborazione Thank you For your Disservizio Allora 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 Noi abbiamo bisogno Di 10 Geothermal Low voltage Generator Che andremo A piazzare Tipo 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 Qua Facciamo anche Piazzarli qua Si Ci sta Questo possiamo farlo Anche fuori Nel senso Non deve essere Per forza A vista Allora Qua Oh crib Io dimenticavo Che c'era tutto Sto casino Qua sotto C'è un Un casino Che nemmeno Potete immaginarvi Ma nemmeno Se piangete In turcomanno Riuscite Riuscite A immaginarvi Che Putiferio Che c'è qua Allora Noi chiudiamo E no Chiudiamo Un fico secco Perché qua c'è da fare Deve scorrere L'acqua E la lava Quindi Devono starci Poi 10 Di questi Quindi Allora Speriamo di avere Abbastanza Dirt dietro Che tanto Di sicuro Non avremo Allora Via qua Un attimo Via 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 Facciamo un po' di spazio Scusate Ma qua c'è chi sta lavorando Ok Allora Togliti Grazie Così dovrebbe andare No Dovrei fare ancora un blocco Più in giù Perché Deve essere Sopra Sotto No Così va bene Così va bene GG oso Proprio Proprio E qua sopra ci possiamo mettere del vetro Per camminarci Per essere sicuri Che tutto funziona E per ricordarci Che ci sono appunto Dei geotermal voltage generator Che andremo a mettere così Due Tre Quattro Cinque Sei No Ci mancava il deserto Sì Dammi questo Ah Non ci sta più Cribbio Vabbè Così Uno Due Tre E Quattro Così Ok Qua Ci siamo Possiamo dirlo Anche Ad alta voce Togliamo questa Ambaradana qua Prendiamo questi Questi non ci stanno Ma Vabbè Allora Sono dieci Sono dieci Tutti un po' girati a caso Ma Sono dieci Direi No Mettiamoli tutti Dallo stesso verso Che se no Se dobbiamo vederli dall'alto Fanno davvero schifo Ma fanno davvero schifo Adesso magari Non facciamoli despownare Altrimenti Oddio Allora Qua Buttiamo un attimo Control Q Sta roba Qua Mettiamo Questi Mettiamo Questi Che piazzamento Da pro Proprio Over Nine Thousand Ok Andiamo a recuperare L'altra Dirtolo mio Che è qua Perfetto Perfetto Qua chiudiamo Conviene Anche perché c'è della lava Meglio non far casino Detto questo Dobbiamo capire Se abbiamo della lava Punto Primo Perché Apro Due No infatti Togliamo un po' Di questa roba Un po' Di questi Dirtolomei Via Via I fiori non ci interessano Come un blocco Lava Lava come lava Allora Però forse ci basta Vediamo un attimo Allora Uno No aspettate Se io la metto Quella si sposta forse Di due blocchi In là No di uno Allora Mettiamola qua Mettiamola qua No è già finita Però Nessun problema ragazzi Perché c'è Super mascherina No Tipico Lava L'avevo chiamato Forse Sì Perfetto Mi son messo Un Un travel point Qua Salvato Proprio per Evitare di fare Tipo Mille milioni di Oddio Questa lava Sta causando Un trip Assurdo Non è possibile Andiamo via Ok Che poi Sono stato stupido Potevo fare Tipi back E andavo là Ecco Questa magari Non teniamola in mano Perché Provesciare della lava Là Forse no Magari faccio un backup Prima di fare Una cosa del genere Ecco Eravamo rimasti Eravamo rimasti Alla nostra carissima Lava come lava Lava come lava Allora Andiamo qua Magari senza Cadere Ok così Uno Così E così Perfetto Così dovrebbero funzionare No non funzionano Perché non hanno network Naturalmente Però Allora Noi mettiamo Noi mettiamo I cavozzi Che passano Di qua Li farei passare Di qua Perché così Almeno possiamo Tenereli sott'occhio E Vorrei vedere Se per caso Funzeca La storia Allora No Qua manterrei Tutto sotto terra Quindi mettiamo Via questo Il supply converter Da sotto Da sotto Riceve il coso No ma No io lo volevo Sotto terra Non ci siamo capiti No Non ci siamo capiti Allora No c'è un blocco sotto Perché me ne ho messo così Ah no Perché ne ho messo uno in più Non me ne sono accorto Ok così Perfetto No supply converter Prima ci va il Il Tizio là Il tizio immondo Come si chiama? Chi su ca? La switching station Così funzeca Supply 0 Demand 0 Perfetto Però noi non è Di problema Per ora Perché questo ci dice Non è Come no network Ce l'hai il network Anche qua Ha forse bisogno Del coso da fuori No network Dice E mettiamo energia qua Mi sa che è l'unica Per ora ci conviene Coprire con la terra Qua sopra Per evitare Casini Ci sono già morto Una volta Nella lava Non vorrei Fare la stessa storia Qua Ok perfetto Qua però è acceso Quello a fare là Ehm Acqua dicevamo No? Water can Andiamo qua Allora 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 Ok si sono accesi Perfetto 100% No io volevo No non posso selezionarlo Al cosa Non posso selezionare L'interfaccia No Però Bueno Bueno direi proprio Bueno Mettiamo della d'erto Anche qua Per evitare di Finire dentro L'acqua Perfetto Questo ci dice Non network Perché? Supply 3 Eh forse ci devo mettere L'altro sopra Una switching station Sopra Però 0 MV A 0 LV Supply demand Ah no E no E no E no E no E no E il contrario E proprio il contrario Naturalmente Cosa volete che vi dica Quindi deve collegarsi Da sopra Con quello che deve Convertire E poi va sotto Quindi Gran casano Ehm Qua Facciamolo salire Che poi io devo portarlo in qua eh Ricordiamoci che io devo portarlo in qua Quindi facciamo così Deve prenderlo da sopra Facciamo così Ehm Esce dalla sotto E' un casino Ehm Tutte queste configurazioni Ehm Cosa qua No network ancora Naturalmente Però noi adesso andiamo a sistemare anche questa roba qua E gli mettiamo questo E gli diciamo Ehm Piglia Sta switching Station E Supply 2700 Perfetto Sta convertendo l'energia che riceve E questo è Buonissimo Adesso dobbiamo solo portare Solo Tra virgolette Portare il cavo in là E alimentare i nostri Carissimissimi Carissimissimi Medium voltage furnace E Medium voltage grinder Che Allora innanzitutto Andrei a piazzare Così ci sta Ma si Allora mettiamo qua Un grinder No questa è una fornace Innanzitutto Allora Prima ci va il grinder E poi ci va la fornace E io vorrei che arrivi Il segnale diviso Diciamo Quindi Una cosa così Del tipo Forse è meglio fare un Coso in più Perché se c'è per caso Ci fosse il bisogno di dividere Ok Poi la furnace Qua Ha bisogno Dell'output Coso No No non credo Ah Non ho fatto i controller Per farli configurabili Gli upgrade slot Vabbè Qua anche avrò bisogno Di quello Esce di qua E va All'autocrafter Agli autocrafter In realtà Perché gli autocrafter Devono essere in totale Di 10 Ho calcolato In base alla produzione Che Necessitano Quindi se io metto così Ah ma possiamo fare anche una fila Una fila qua centrale Spostiamo questi indietro Non dovrebbero dare problemi Spostandoli indietro Allora Una Uno Uno Due Qua E qua Mettiamo una fila Qua di Dieci autocrafter Che accettano L'input Da tutte e due le parti E E poi Gli metteremo L'output Da un'altra parte Ok Stiamo andando Una costruzione Molto Lunga Oblunga Io credo Fosse più una cosa Da Costruzione quadrata Tipo Invece Noni Allora Diamo così Questi ricevono Dappertutto L'output Io glielo farei fare Da sopra A sto punto O da sotto O da sotto Forse è meglio Da sotto Perché Spostiamo tutto di uno E qua facciamo salire in su Tipo Pneumatic tube Vi faccio vedere Allora Mettiamo così E così Poi lo facciamo salire E gli facciamo connettere Da sopra Ok Con un Sorting Con un sorting Allora qua Allunghiamo ancora di uno Qua si mette un sorting In cui disattiviamo Tutte e due E Attiviamo solo questo L'unico attivo L'unico attivo deve essere Il rosso Qua l'input lo riceve Ma non fa output Quindi manderà Tutto di qua E Ok Manderà tutto di qua E E E E A questo punto Possiamo fare L'output Da questo giro Di qua Quindi mettiamo E Ah Qua però l'ho pensato Come unico È un problema È un problema È un problema se è unico Credo di Sì Perché qua L'autocrafter Ha bisogno di Un Filter Injector Per far uscire via Ne sono abbastanza sicuro Quindi Filter Injector Per far uscire Ma uno per uno Tutto qua I Cavi là Che però vanno in una sola direzione Che è il Teleporting tube Che va messo là In questo punto Allora Qua facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Si collegano Al Al Tube A questo No Questo non è il Teleporting Questo è il Sorting Al Teleporting Che mettiamo a metà Uno Due Tre Quattro Cinque Tipo qui E Lo mettiamo Su Minerali Send only Perfetto A questo punto Se noi mettiamo I Vari Tizioncoli Qua Dovrebbe essere Appostissimo Nel senso che La questione È risolta Con i Io avevo fatto Uno stack Vice Qua Ma Non può Funzionare Perché Il fatto Che loro Non danno L'output Così Loro Prendono Solo input Da tutte le Facce E l'output È solo Dove hanno Il filter Injector Quindi Bisogna Di mettere Dieci Filter Injector Qua Che mettono Tutti qua Dentro Questo tubo Qui essendo Dei filter Non Prenderanno Della direzione Opposta Quindi Manderanno Solo dentro Quindi Qua L'unica cosa Che può fare È quella Di essere Mandato Qua Dove Appunto Se ne va Di là A casa Qua Dovrò fare Tutti gli Autocrafter Che Craftano I blocchi Con I Con I Lingotti Pneumatic Tube Pneumatic Tube E qua Ci sarà Bisogno Di un Di una Chest Con un Filter Injector A stack Sì Una chest Con il Filter Injector A stack Ah per Quello Forse L'avevo Fatto Non Avevo Pensato Agli Altri Non Avevo Pensato Agli Altri E questo È stato Un po' Il Problema Non Si Vede Più Niente Qua Scusate Metto Un paio Di Torce Momentaneamente Giusto Per Illuminare La Zona E Quindi Una Chest Qua Che Io Utilizzo Per Processare Non Ho Una Ceste Dietro Oddio Ma Non È Possibile Una Roba Del Con 1 12 12 Perfetto Lo ricevono Grindano Cuociono Mandano qua Autocrafting Filter Injector Che mandano là Puff Torna a casa Detto questo Farò tutto il lavoro In off camera E Ci vediamo Nel prossimo video A questo punto Che dite Ve gusta Ve gusta Vi invito a lasciare un mi piace Se per caso vi è Piaciuto questo episodio E È stato Interessante A iscrivervi al canale Se per caso non lo aveste fatto Per restare aggiornato Su Cosa succederà In questo bellissimo mondo Ci vediamo Ciao a tutti Ciao